Potrebbe non essersi trattato di una semplice, per quanto tragica, fatalità. Quell'uomo sui binari potrebbe esserci stato spinto, oppure potrebbe aver perso la vita non a causa di un investimento. La tragedia è avvenuta nella zona di Massafra. Precisamente a poche centinaia di metri dal passaggio a livello di via Ferrara, nella zona industriale, il corpo senza vita, riverso sui binari, appartiene ad un 42enne di origini ganesi. Attenzione però perché il treno che vedete fermo, il regionale Tarantobari, non lo avrebbe investito. Anzi, il conducente, dopo aver notato il corpo, si sarebbe fermato per lanciare l'allarme. È successo intorno alle 19. Poco dopo sul posto un'automedica, i sanitari però purtroppo nulla hanno potuto e ancora i carabinieri della compagnia locale, la polizia ferroviaria e la scientifica per i rilievi. Altri extracomunitari sono stati ascoltati sul posto dagli inquirenti, che al momento non possono escludere alcune ipotesi ferrovie dello Stato ha messo a disposizione alcuni bus che hanno permesso ai passeggeri illesi di continuare il proprio viaggio.